3, 2, 1 Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Oggi ti parlo nettamente in italiano Questo è il mio primo video in italiano E sto un po' nervoso perché non... Non sono un esperto parlando questa lingua Ma ho un livello intermedio, credo Non un livello basso, ma non un livello grande Ma non un livello perfetto Perché mi piace l'italiano? Ti conto un po' Mi piace l'italiano un sacco perché ho parenti nell'Italia Quando i miei parenti sono venuti qui in Perù, tre volte credo Ho scoperto la loro cultura, ho scoperto l'accento Il cibo italiano è buonissimo E per questo motivo mi piace l'italiano perché ho scoperto questa cultura Ho studiato l'italiano da sei mesi, ma almeno Recentemente sto praticando ogni giorno Due mesi fa sto praticando ogni giorno Guardando serie, guardando film Ascoltando contenuto in YouTube In italiano, bloggers, instagramers, tutto questo Sto leggendo un libro in italiano che si chiama manipolazione mentale Aspetta, non è per manipolare la gente È un libro per conoscere il linguaggio del corpo I segreti della psicologia oscura Come analizzare le persone E tutto questo Ho comparato questo libro su Amazon Se tu vuoi imparare una lingua Devi leggere, devi guardare contenuto In YouTube, Amazon Prime, Netflix In la lingua che ti piacerebbe imparare In questo caso è l'italiano Ho visto una serie anche in italiano Ma questa serie è americana ma io l'ho vista in italiano E ho visto alcuni episodi, alcuni capitoli Si chiama Derivivanziori Va bene, ti conto che oggi ho ricevuto la seconda posse La vaccinazione contro il Covid-19 Non mi fa male Veramente, sto bene Non è la prima volta che parlo in italiano in un video Ma ho parlato con alcuni italiani In un sito web che si chiama Omegle Ma questo è il primo video parlando nettamente in italiano Perché ho fatto solamente domande E questo è facile Credo che se tu vuoi imparare una lingua Non è difficile È una questione di ogni giorno Se tu puoi sognarlo, vuoi farlo Questo è vero Perché? Perché io nella scuola Pensavo che ero inutile per imparare lingue Perché ho problemi con l'inglese Ho problemi con il francese Ma tutto questo non importa È un piacere parlare questa lingua Che è bellissima, veramente Buono Se ti è piaciuto questo video Metti mi piace E iscriviti al mio canale È tutto per oggi Alla prossima volta Iscriviti Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.